Entro giovedì dovrà decidere se ritirare o meno le dimissioni. Qual è il suo orientamento? Il mio orientamento è quello che va fatta una riflessione, spero che sia stata fatta un po' da tutti, su quello che vogliamo per questa città, su quello che questa classe politica dirigente vuole per questa città. Dagli incontri che ha avuto però cosa è emerso? C'è la volontà di riflettere? Guardi, io credo di sì, anche perché sarebbe grave se fosse il contrario. Io dicevo che dobbiamo capire cosa vogliamo per questa città, cosa questo centrodestra, se esiste ancora un centrodestra, vuole per questa città. Io percepirò questa determinazione e Maurizio Brucchi ci sarà, ripeto, altrimenti io giovedì confermerò le mie dimissioni. Dunque aspetterà l'ultimo giorno per decidere? Ma guardi, questo non è detto, non è questione di aspettare l'ultimo giorno e il penultimo giorno. Quello che mi interessa capire e comprendere, e lo voglio fare con tutti i principali attori, che poi sono i consiglieri comunali, se c'è questa volontà. I consiglieri quelli più, tra virgolette, ostici, cosa le hanno detto i famosi dissidenti? Guardi, non si tratta di ostici o meno ostici, perché non sempre quello che appare poi è quello, come dire, non è tuttora quello che luccica, mi sembra che dica un proverbio, non è questo. Qui c'è il discorso che ognuno deve giocare il proprio ruolo, anche l'opposizione deve dire cosa vuole per la città, perché non è che l'opposizione non deve far parte, diciamo, di questo discorso. È chiaro che la maggioranza ha un compito totalmente diverso rispetto a quello dell'opposizione. Però, ripeto, noi dobbiamo capire, io devo capire, se ci sono i presupposti affinché si possa continuare in questo cammino difficile, un cammino difficile. L'ipotesi dell'aggiunta a sei ventilata in questi giorni? Guardi, davvero, se parliamo, se riduciamo tutto a questo, non stiamo facendo un buon lavoro. Ci sono ancora cinque giorni e non sono pochi. Ripeto, io devo avere contezza e consapevolezza che ci sono persone, ci sono consiglieri, ci sono liste, c'è una classe politica dirigente che vuole giocare una stessa partita. Io credo di essere stato chiaro, non credo di aver bisogno di dirlo in maniera diversa. Questo per me è il presupposto. Quando ci siamo candidati, quando io mi sono candidato, quando ci sono candidati, credo che ci sono candidati con un obiettivo ben preciso. Mettersi al servizio della città con un unico obiettivo, il bene comune. Se ripartiamo da questo, i giochi sono facili.